Ogni Consiglio Comunale e ogni evento è da noi preparato con assemblee pubbliche che teniamo nella nostra sede, che si trova in via Stenda a Bacoli, di fronte alla chiesa di San Ciacchino, una traversa che lì presente. Ogni lunedì ci riuniamo per dibattere e discutere di quelle che sono appunto le realtà di Bacoli e nella sede teniamo anche tante altre iniziative. Invidiamo tutti coloro che stanno vedendo questo video e chiunque voglia a venire nella nostra sede, a potersi confrontare con noi e diventare parte di questo progetto che stiamo portando avanti. Ripetiamo, ciò che io come persona fisica, come consigliere, dico in Consiglio, ad esempio anche nel corso di questo Consiglio del Centro di Tocampano, è frutto di un lavoro immenso che viene fatto da tutti i componenti della redazione, dell'associazione di Fribagoli e che può diventare sempre migliore allorquando ci siano cittadini che possono intervenire. Adesso siamo tra i 20 e i 30 che ci dividiamo tra attività, pratiche, teoriche, studi, video, articoli e per discorrendo. Se riusciremo ad aumentare, se riusciremo ad avere consapevolezza dei problemi del nostro territorio, allora realmente potremo di qui a breve risolvervi e portare avanti le proposte per il miglioramento della città. Quindi non mancate, ogni lunedì alle 9 in via standard. Alle 9 puntuali in via standard. Seguite ovviamente sul sito www.fribagoli.net dove vi informeremo quotidianamente. Ok, ciao alla prossima.